Opel Mokka è un modello iconico della storia di Opel e dal lancio del 2012 è stato estremamente apprezzato dai clienti con oltre un milione di unità vendute in tutta Europa. Questa seconda generazione di Opel Mokka porta con sé tali novità da essere una pietra miliare nella storia di Opel perché rappresenta un punto di svolta grazie al suo design completamente nuovo. La macchina è stata sviluppata, progettata a partire da un foglio bianco e nei suoi canoni stilistici rappresenta ciò che la Opel vuole essere, vuole rappresentare da ora in poi, negli anni 20, negli anni 2000. Ha un design con elementi che vedremo sulle prossime Opel, come per esempio questo frontale, l'Opel Vizor che prende spunto da una Opel del passato, iconica come Opel Manta, ma che è stato modernizzato, quindi rivisto in chiave moderna. D'altra parte è una vettura molto dinamica nelle linee, con delle proporzioni molto attraenti. Dal punto di vista tecnico è basata sulla piattaforma CMP che è in grado di ospitare sia motorizzazioni benzina, diesel che la versione elettrica, l'Opel Mokka E, che ha un motore da 136 cavalli, 100 kilowatt, un'ampia batteria da 50 kilowattora che è in grado di far percorrere, guidando secondo, o quanto per scritto dal ciclo WLTP, ben 324 chilometri, quindi è un'autonomia estremamente ampia che permette di gestire la ricarica per la gran parte dei guidatori europei che fanno meno di 50 chilometri al giorno, parliamo di oltre il 90% di questi. Si può anche ricaricare la vettura anche una volta a settimana, in maniera non dissimile da come si faceva prima con le vetture termiche dove si rabboccava il serbatoio solo una volta a settimana, quindi grande brillantezza del motore elettrico, grande autonomia. D'altra parte i motori termici a benzina e diesel, il benzina è un 1.2 turbo da 100-130 cavalli, sia con cambio manuale che con cambio automatico a 8 marce, con palette al volante, sono dei cambi estremamente efficienti, così come i motori, e aiutano a ridurre le emissioni e i consumi a livelli estremamente bassi. L'Opel Mokka è molto più leggera rispetto alla generazione precedente, siamo riusciti ad abbassarne il peso fino a 120 kg pur riuscendo a incrementare la rigidità di Opel Mokka fino al 15% in più rispetto alla generazione precedente. Per di più abbiamo lavorato moltissimo, sia dal punto di vista del telaio, delle sospensioni, dello sterzo, per dare la percezione che deve dare una vettura tedesca, come questo Opel Mokka, quindi molto diretto, molto agile, sia nel traffico a bassa velocità, sia ad alte velocità. L'aerodinamica è stata curata in maniera molto attenta, tanti sono gli elementi che sono stati introdotti riuscendo ad ottenere una riduzione del coefficiente aerodinamico da 0,35, che era il valore della precedente generazione di Opel Mokka, all'attuale 0,32, quindi un valore estremamente competitivo, estremamente interessante, che aiuta anche lui a ridurre consumi ed emissioni. Solo per l'aerodinamica consideriamo che a 130 km orari si riduce la resistenza di ben il 16%, un valore molto grande, con il risultato di avere una riduzione delle emissioni CO2 fino a 9 g per km, secondo il ciclo WLTP.